ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi faccio vedere un po la situazione in campo com'è quest'orzo piantato verso il 10 l'otto di novembre un po' tardo vi ho fatto vedere il video della semina col t6 160 e la maschio gaspardo dama da tre metri combinata orzo varietà cometa appena spiegato qualche giorno fa però è già diciamo avanti in copronto a degli orzi che vedo in giro è buono almeno per ora sembra essere buono le testate dove abbiamo pestato un po di più visto che siamo in minima lavorazione non abbiamo potuto arare non non sono venute se guardate qui e guardate questa testata qua e spoglie in confronto all'immezzo dove a pieno campo ovviamente si pesta di meno però cioè secondo me è un risultato buono poi vi farò vedere in altri video come andrà avanti questo orzo buona serata a tutti